Nelle ultime ore è uscito di scena un potenziale protagonista dell'operazione societaria del Pescara. Ariedo Braida è il nuovo direttore generale della Cremonese e inizierà il suo mandato dal 1 dicembre. L'ex direttore sportivo del Milan di Berlusconi e del Barcellona di Messi, dopo qualche stagione di pausa, torna in sella col club del presidente Arvedi dopo essere stato al centro di voci insistenti che lo volevano tessitore della trattativa tra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e un gruppo di investitori milanesi, voci che lo stesso massimo dirigente Biancazzurro aveva smentito. Intervenuto nella trasmissione velo, Sebastiani commenta così l'avvento di Braida con la Cremonese e torna sulla trattativa societaria. Mi fa piacere che Ariedo sia rientrato perché è rientrato tra le altre cose con un club importante vicino a casa sua. Io con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto quindi mi fa piacere che sia rientrato e soprattutto nella nostra categoria quindi avremo modo anche di vederci e di sentirci. Per quanto riguarda il resto, vedi, il concetto è uno solo. Io ho sempre detto, io sono pescarese e non lascerò il pescare in mano a persone che domani mattina rubano quattro soldi, scappano e fanno fallire la squadra. Se ci sarà la possibilità di darla a qualcuno che è più serio di me, sono il primo ad essere, diciamo, in qualche modo pronto a fare un'operazione di questo tipo. E' uscito allo scoperto Leonardo Pavanati, milanese, ma toscano di nascita, imprenditore e titolare di uno studio di consulenza aziendale che funge da family office anche per alcune famiglie saudite. Pavanati è presidente del CDA della AEG Real Estate S.p.A., società con sede legale a Napoli e altre operative a Varese, in Brianza e a Palermo, con la quale vorrebbe acquisire il pacchetto di maggioranza della Delfino Pescara. Pavanati da giorni tratta con le banche per avere disponibilità economiche e fideiussioni tali da poter puntare alla chiusura. Non è però l'unico pretendente per Sebastiani che interloquisce anche con altri gruppi, avendo un punto di forza. L'equilibrio dei conti della società fa sì che la cessione per il massimo dirigente biancazzurro non sia una necessità improrogabile. Ho dettato delle condizioni che sono molto stringenti, me ne rendo conto, ma lo sono soprattutto per capire chi è di fronte, perché è evidente che se arriva qualcuno che è disponibile a tirarli fuori dei soldi, a tirare fuori delle garanzie, vuol dire che intanto ha una valenza economica importante e poi comunque è una persona di un certo tipo. Per il resto io non ho nessuna fretta, ne ho dato ultimatum a nessuno, per cui il Pescara va avanti tranquillamente con o senza nuovi soci, con o senza un nuovo proprietario. Io ho la maggioranza del Pescara, sono il Presidente, non vedo nessun tipo di problema se non quello di, eventualmente ribadisco, quello che sto facendo da anni, cercare di trovare qualcuno che ci possa dare una mano a fare un saltino di qualità. Quello sì, che adesso possa trovare uno che se si compra tutto e lo faccia da solo, va bene uguale, però ribadisco, deve essere uno che dia sicuramente continuità a quello che abbiamo fatto.